Allora, cominciamo dalle case, quanto valgono? Oggi ne parliamo con Laura Cecchini, avvocato dell'ADUC. Buongiorno, Gian Battista Baccarini, presidente della Federazione Italiana degli agenti mobiliari. Il nostro Stefano Santin, della Casa del Consumatore. Allora, le nostre case rispetto a dieci anni fa, quanto valgono? Vediamolo con l'aiuto della grafica, svalutazione delle case dal 2010 ad oggi. A Torino si sono svalutate del 30%, a Roma del 21%, a Milano solo del 5%. Le case vecchie sono meno 2,4%, le case nuove meno 2,4%. Davvero un colpo per chi oggi vede la propria casa a diminuire di valore e si trova costretto a svenderla, di fatto. Vediamo anche quante sono state le compravendite dello scorso anno, sempre con l'aiuto della grafica. Nel 2019 590 mila, nel 2021 saranno 617 mila. È un buon momento, Baccarini, per chi compra, ma pessimo per chi vende, giusto? Sicuramente è un momento ottimale e strategico, direi, per chi compra. Non solo perché i valori di mercato sono calati di circa il 20% come media, ovviamente, negli ultimi dieci anni, ma anche perché i rendimenti finanziari sono pressoché azzerati, i tassi di interesse per chi acceda a un finanziamento sono ai minimi storici. Per chi vende, dipende, dipende perché bisogna vedere quando ha comprato l'immobile, perché se l'ha comprato nel momento topico del 2008, dove i prezzi erano molto alti, è una cosa. Se l'ha comprato a fine anni 90 è un'altra, dipende anche dalla tipologia e dall'ubicazione dell'immobile, perché per esempio in centro storico a Roma, in tipologia di pregio, è chiaro che i valori non sono così calati. E soprattutto se chi vende, riacquista un immobile di valore più elevato, più alto, è chiaro che proporzionalmente, se il calo è stato circa del 20%, ha guadagno. E da qui l'importanza di affidarsi ad un agente immobiliare professionale che ti aiuti a comprare e vendere casa al giusto prezzo. Si chiama Open House, la formula per vendere casa che arriva dagli Stati Uniti e che, a detta degli esperti, consente di vendere l'immobile più in fretta e a un prezzo migliore. Siamo andati a Milano, stamattina a casa di Daniele è prevista una Open House. Come mai hai scelto la formula dell'Open House per vendere la tua casa? Ho scelto la formula dell'Open House perché la reputo una formula diversa che permette di realizzare la vendita in tempi più brevi e a prezzo migliore. La conoscivi già? La conosco perché da viaggiatore seriale ho visto Open House in giro per il mondo e ho partecipato anche ad alcuni di questi. Ma che cos'è un Open House? L'Open House, come dice il termine, è una visita libera all'immobile. La casa rimane aperta, si inizia allestendola con degli arredi, con delle candele, anche qualcosa da mangiare e poi la gente può entrare, ad esempio oggi, tra le 11 e le 14 e visitarla liberamente. Ma come è stata valutata questa casa? Questa casa è stata valutata tenendo conto dell'immobile stesso, di un terrazzo godibile, di un box, di altri annessi e si parte da una cifra di 300.000 euro. E così alle 11 le porte si aprono e dalla strada iniziano ad arrivare i primi interessati. Qualcuno ne è venuta a conoscenze a rete. Attraverso un sito internet. Altri, passando per caso lungo la strada, hanno letto il cartello con la scritta Open House accanto al portone d'ingresso. Lei passava per la strada, ha trovato il cartello ed è entrata? Sì, esatto, ne ho approfittato subito, anche se ho pochissimo tempo, però lo dobbiamo vedere assolutamente. La casa si riempie, il proprietario e gli agenti immobiliari intrattengono gli interessati, togliendo loro ogni dubbio anche sulla formulazione dell'offerta. Farete la vostra valutazione? Sicuramente, sicuramente, appena mi mandano tutti i documenti, il contesto è carino. Tu sai che, diciamo, dato il prezzo di partenza, comprerà la casa chi farà l'offerta migliore? Questo era un dettaglio sul quale non avevo ancora discusso, ma ti ringrazio, ti ringrazio per avermelo anticipato. Dopo tre ore la casa si svuota, cerchiamo di capire com'è andata. Sono intervenute più di 35 persone, probabilmente tra lunedì e martedì accoglieremo un paio di proposte. Chi si rivolge all'open house ha la possibilità di vendere la casa a un prezzo maggiore? È molto probabile, perché i clienti vedono che contemporaneamente a loro ci sono altre persone, quindi magari trattano meno il prezzo e prendono decisioni molto più veloci. Grazie ancora, arrivederci. Ciao, ciao. Insomma, è una formula che potrebbe aiutare un po' a velocizzare quei meccanismi che di solito, no Baccarini, sono un po' più lunghi nella vendita tradizionale. Come si fa a stimare il valore di un immobile? Sì, beh, la stima dipende da una serie di parametri, che sono ovviamente l'ubicazione, cioè dov'è quindi situato l'immobile, la consistenza, quindi la metratura commerciale, le finiture e la tipologia dell'immobile, se è un due camere o un tre camere, una serie di parametri che un agente immobiliare ovviamente professionale, evoluto e moderno, sa definire, sa delineare, a tutela del mercato e anche a beneficio ovviamente della cittadinanza. La domanda risponde Giambattista Baccarini, presidente della Federazione Italiana degli agenti immobiliari professionali. Mi sono rivolto a un'agenzia per vendere un appartamento. Mi ha chiesto una commissione del 4% sul prezzo di vendita, è corretto? Ma come ci siamo detti più volte, la legge è chiara su questo, cioè la provisione va concordata tra le parti, quindi tra l'agente immobiliare e il contraente, il cliente, e va chiarito sin dagli inizi dei rapporti. È chiaro che possiamo dire in linea generale che dipende sicuramente dal prezzo di compra-vendita, perché più basso è il prezzo, più è giustificato una provisione in percentuale più elevata, e anche e soprattutto dai servizi che l'agente immobiliare eroga. Cioè se si limita a intermediare, cioè a mettere in contatto un conto, ma si eroga tutta una serie di servizi che prevede la raccolta e il controllo di tutta la documentazione di cui citava anche la dottoressa Cecchini, sicuramente questo è il motivo per giustificare una provisione più elevata. Un qualcosa che conta molto nell'economia di vendita di una casa è la presentazione, Baccarini. Cosa devono mostrare le fotografie? Ma le fotografie devono cercare di valorizzare al massimo ovviamente l'immobile e quindi dipende dalla tipologia dell'immobile. Sicuramente oggi oramai le strutture agenziali sono strutturate appunto per dare servizi di fotografie di home staging che consentono una presentazione ottimale da un arredo ordinato piuttosto che dalla luminosità che deve apparire e quindi anche da un strumento di macchina fotografica che sia tale da consentire la massima valorizzazione. Ecco abbiamo preso due foto dello stesso appartamento per farvi vedere qual è la foto fatta male, quella a sinistra del teleschermo e la foto fatta bene. Quella sulla destra, come vedete, è più invitante a una visita. Con le nuove tecnologie, Baccarini, è addirittura possibile fare una visita vera e propria all'immobile? Sì, una visita virtuale, addirittura anche misurarla diciamo la tipologia e la metratura dell'immobile però io dico sempre consigliabile poi farsi dare tutta la documentazione relativa quindi la parte catastale edilizia urbanistica e soprattutto far fare un tecnico di fiducia un intervento sul posto, un sopralluogo affinché possa misurare effettivamente quella che è la concreteriale misura La stiamo vedendo tra l'altro, vediamola a tutto schermo Andrea per favore, ecco questa è come dire una ricognizione virtuale in 3D di una casa in vendita vedete si possono visitare tutti gli ambienti si possono addirittura prendere le misure Baccarini Esatto, lo dicevamo adesso, si possono addirittura prendere le misure però io dico questo è uno strumento che aiuta, che agevola però andare a vedere la casa che è un momento così emotivo così dove la parte emozionale interna alla prevalenza rimane un aspetto assolutamente prioritario Senta, ci sono degli orari migliori per le visite vero e proprio fisiche diciamo, se io voglio andare a visitare un appartamento che orario scelgo? La massina presto? L'ora di pranzo? A cena? Dipende dall'immobile sempre perché ovviamente gli orari sono i migliori sono quelli che consentono la massima valorizzazione dell'immobile che agevano alla vendibilità per esempio la luminosità è una delle caratteristiche principali quindi per esempio se l'appartamento è esposto a sud-est è chiaro che gli orari migliori sono tardo mattina, primo pomeriggio se invece è il tramonto, l'aspetto che valorizza di più l'appartamento ecco nel tardo serata sicuramente è un momento ideale Senta, se accettiamo la proposta di un compratore quali sono i tempi per la vendita? Dipende dall'esigenza dei contraenti ovviamente sempre quindi i tempi devono essere scanditi ovviamente in maniera chiara uno degli elementi fondamentali del contratto e quindi nel primo contratto che si va a fare che è la proposta d'acquisto devono essere indicati si può dire che in linea generale i tempi medi di vendita sono diminuiti nel tempo nel 2017 si andava da 6 a 9 mesi nel 2018 da 4 a 7 mesi nel 2019 da 3 a 6 mesi quindi il mercato sicuramente sta rispondendo meglio Quindi 3-6 mesi per vendere una casa Baccarini, le commissioni delle agenzie immobiliari magari possono spingere qualcuno a ricorrere al cosiddetto fai-da-te cioè a venderla in solitario che rischi si corrono? Ma i dati su questo sono molto chiari è molto rischioso il fai-da-te per tre ordini di motivi uno è il prezzo cioè il nostro centro studi ci dice che l'84% di compravenduto tra private avviene un valore non congruo da un 14% a un 18% di cui il 52% in alto e il 48% in basso cioè in sostanza io non so se sto strapagando l'immobile o lo sto svendendo di parecchio quindi è importante affidarsi a una struttura agenziale il secondo motivo è sicuramente il rischio di litigare, di discutere di non arrivare a quelle che è un'esigenza comune di comprare e vendere casa sappiamo che è una piccola guerra uno vuole spendere il meno possibile l'altro realizzare il più possibile e il terzo motivo è sicuramente la sicurezza documentale ci citava prima riuscire ad adottare una modalità che per noi è il modello 1 FIAI c'è di raccolta e controllo di tutta la documentazione relativa all'immobile questo sicuramente consente una compravendita sicura e tranquilla per chi vende e per chi compre e indirettamente comporta una nomea positiva per l'agente immobiliare grazie Baccarini per essere stato con noi